Non decollano per il momento i saldi invernali nelle marche, forse i meno attesi, degli ultimi anni. Umore scuro per i commercianti, che rimasti con quasi la metà delle collezioni pesanti invendute per le tiepide temperature eccezionali di ottobre e novembre, sono stati costretti ad anticipare i ribassi a dicembre durante il periodo natalizio. Il freddo, questi giorni la pioggia non ha giutato molto, direi che è presto dire qualcosa, però diciamo che è partito male insomma. Come sta andando? Ma guarda sono partiti da sabato, diciamo che c'è abbastanza entusiasmo, purtroppo il weekend ha piovuto, quindi magari c'era meno fluenza in giro, però comunque dai c'è ottimismo, noi applichiamo anche degli sconti importanti dal 30% al 50%, da presti già scontati e quindi direi abbastanza bene. Tra i commercianti non manca l'ottimismo, ma inevitabilmente il primo bilancio sui saldi invernali è negativo. Ad analizzare questo inizio in salita è il direttore di Confesercenti Pesaro, Davide Ipaso. Bilancio basso, basso per tante difficoltà che si sono create. Prima di tutto abbiamo avuto un inverno che è iniziato tardi, il mese di novembre l'abbiamo avuto con temperature estivo-autunnali, quindi gli operatori non hanno praticamente venduto a prezzo pieno. Arriviamo a Natale, quando la gente sa che il 5 di gennaio ci sono i saldi, già chiede la scontistica, se no dice non compro niente, compro dopo l'inizio dei saldi. L'operatore si trova a vendere a prezzi inferiori, c'è il vendito promozionale, il break friday e poi l'inizio dei saldi il 5 di gennaio, che non ha assolutamente senso perché il saldo dovrebbe essere la vendita di fine stagione. Nasce e si crea il 5 gennaio dopo che il 21 dicembre inizia praticamente l'inverno. Un primo flop causato anche dal maltempo dei giorni scorsi, ma soprattutto pesa la crisi dei bilanci familiari, mutui a tasso variabile alle stelle e caro spesa che impone solo acquisti di capi utili. In più la crisi economica che sta attraversando il nostro paese, che tutti strano, sono zitti, però io conosco famiglie che forse devono riconsegnare le proprie abitazioni perché il tasso variabile del proprio mutuo è arrivato alle stelle, la gente ha tolto il superfluo e compra solo l'utile. Di più cattive abitudini da parte dei clienti. Ad incidere negativamente sui saldi anche lo shopping online è confermata la cattiva abitudine degli ultimi anni con la clientela che prova capi di abbigliamento nei negozi fisici per poi acquistare sui siti di e-commerce. Se Amazon pagasse le tasse in Italia, se Amazon pagasse l'IVA come la pagano gli operatori commerciali, non ci sarebbe il problema online. Quanto incide lo shopping online? Ma incide, però io credo che comunque lo shopping fisico nei centri storici ci sia e ci sarà sempre, anche perché è un'esperienza che si dà nei confronti del consumatore, che magari viene in negozio e quindi vive un'esperienza che magari online è un semplice click. Grazie a tutti.